Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro. Proverò a misurare l'indecenza del DL Minite Orlando con il numero degli strappi a principi e valori della Costituzione, in modo che rimanga traccia dentro e fuori da quest'Aula del profondo disvalore sotteso a questo provvedimento e dell'oggettivo contrasto in cui si pone con la tradizione di cultura dei diritti umani fondamentali della sinistra in Italia. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, ma non a migranti e richiedenti asilo, proprio a coloro che avrebbero più bisogno di tutela perché in fuga da povertà, guerre e persecuzioni. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, ma non i migranti e i richiedenti asilo perché a loro sono riservati diritti minori su base etnica. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. La Repubblica, sì, attraverso le associazioni, gli enti, le ONG e tutti i cittadini impegnati nella rimozione di questi ostacoli, ma non il Governo che, invece di perseguire l'uguaglianza sostanziale, scava solchi ancora più profondi tra gli individui e i diritti fondamentali. Articolo 10. Lo straniero, al quale si è impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Ma il Decreto Minite Orlando piega la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo al mito renziano della velocità e quindi sarà ancora più difficile in Italia, d'ora in avanti, vedersi riconosciuto una qualche forma di protezione internazionale. Articolo 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Ma la libertà personale di migranti richiedenti asilo, anche se non hanno commesso reati, è violabile. Può essere limitata con la detenzione nei CIE, che cambiano solo il nome e vengono moltiplicati nel numero. Centri dove spesso le condizioni del trattenimento sono disumane e degradanti, tanto che alcuni tribunali hanno ritenuto legittime le rivolte scoppiate all'interno dei centri. Articolo 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Ma la libertà di circolazione di migranti e richiedenti asilo è limitata nel tempo e nello spazio. Articolo 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile, ma la difesa è un diritto meno inviolabile per migranti e richiedenti asilo, ai quali si nega il diritto di appellare le sentenze di primo grado, togliendo loro un grado di giudizio. Tre gradi di giudizio garantiti a chi impugna un verbale per un divieto di sosta. Due soli gradi di giudizio per chi rischia la pelle nella Siria di Assad o nel Sudan di Al-Bashir o nella Libia delle tribù l'una contro le altre armate. Articolo 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Ma possono essere distolti i migranti e richiedenti asilo, a cui il DL Minniti Orlando riserva giudici speciali, norme processuali speciali, talmente speciali da risultare discriminatori e da disegnare un'odiosa apartheid giudiziaria. Articolo 36. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ma non il lavoratore migrante o richiedente asilo, a cui si chiede di lavorare gratis e di dare il proprio lavoro in cambio della protezione riconosciuta e dell'accoglienza ricevuta, anche se protezione e accoglienza sono diritti fondamentali, assoluti, incondizionati, previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Articolo 72. Ogni disegno di legge presentato ad una Camera e secondo le norme del suo regolamento esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ma questa procedura ordinaria non vale per migranti e richiedenti asilo, ai quali è riservata la scorciatoia di un decreto legge, la forzatura parlamentare del voto di fiducia per blindare un provvedimento e renderlo di fatto inemendabile, quindi sottratto al normale, ordinario, controllo democratico. L'articolo 77. Quando in casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere. Ma se, come nel caso del DL Minite Orlando, mancano i requisiti di necessità e urgenza e si interviene su materie ordinamentali coperte da riservi a di legge e concernenti i diritti fondamentali, beh, fa lo stesso. Sempre in nome del mito renziano della velocità. Articolo 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica. Ma questo non vale per gli accordi con Paesi che non hanno ratificato la Convenzione di Ginevra del 51 sulla protezione dei rifugiati e ai quali l'Italia subappalta la gestione delle frontiere, sempre più spostate a sud e a est, esternalizzate, lontane dagli occhi, lontane dal cuore, ma lontane anche dal diritto. Articolo 102. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, ma per migranti e richiedenti asilo si può fare tutto, compreso istituire sezioni specializzate e sottoporre la materia a regole processuali discriminatorie. Articolo 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale. Tale tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione, ma per i migranti e per i richiedenti asilo è escluso l'appello. Con la conseguenza che si toglie un giudizio di merito su diritti umani fondamentali e si paralizza la Corte di Cassazione con giudizi di mera legittimità che diventeranno l'ultima speranza per chi si è lasciato indietro miseria, morte, guerra e disperazione. In conclusione almeno 13 sfregi alla Costituzione, che è la carta fondamentale dei diritti di tutte e di tutti, almeno 13 sfregi che riguardano ognuno di noi. Perché se quella carta perde valore, perde valore la dignità di ogni cittadino. Il DL Miniti Orlando, che se ci pensate fa sintesi, e che sintesi, delle posizioni congressuali, è il manifesto che fotografa meglio la trasformazione culturale, prima ancora che politica, del PD in partito moderato e neocentrista. Parole, contenuti normativi, slogan, sono diventati gli stessi della destra che ha scritto le pagine più odiose in materia migratoria nella storia del nostro Paese. I CIE, luoghi di detenzione amministrativa, non vengono smantellati, come lei, signor Ministro, auspicava da responsabile sicurezza del PD nel 2009, associandoli addirittura a veri e propri campi di concentramento, ma vengono addirittura moltiplicati e cambieranno nome per poter dire che saranno tutta un'altra cosa. Rimarranno anche i punti di crisi, che è più trend di chiamare hub, e rimarranno i centri di accoglienza straordinaria, i CAS, autentica metafora linguistica, forse involontaria, quindi amaramente ironica, delle politiche del CAS di questo Governo a trazione securitaria. Non ci basta, non ci appaga la mera denuncia, anche se appassionata estrenua, quasi con le lacrime agli occhi, con il cuore intirizzito e i pugni chiusi nella rabbia. Vogliamo indicare per l'ennesima volta che serve una riforma organica del testo unico sull'immigrazione delle norme in materia di accoglienza e asilo, ma nella direzione opposta a quella tracciata dai ministri Miniti Orlando. Serve introdurre il visto temporaneo per ricerca di lavoro in modo da rendere accessibile l'Italia ai migranti economici, secondo canali legali che scoraggino viaggi della speranza, sfruttamento, traffico di esseri umani, caporalato. La predisposizione di vie d'accesso regolari e controllate per migrare in Italia scoraggerà anche il ricorso, talvolta strumentale ma necessitato, al canale d'ingresso della protezione internazionale, sgonfiando i numeri che pretendete di brandire per impaurire ancora gli italiani e giustificare questo provvedimento. Serve abrogare subito il reato di immigrazione clandestina, perché è un'arma potentissima, ma lo è a favore dei trafficanti di esseri umani. Serve riappropriarsi di una matura, coerente e rigorosa cultura dei diritti umani, senza la quale la politica si riduce ad esercizio simbolico e inefficace, ad affannosa rincorsa populista, a corsa cieca e impazzita, senza un orizzonte davanti. Sinistra italiana è possibile, voteranno contro questo provvedimento e continueranno fuori da quest'Aula la battaglia per i diritti di tutte e di tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, perché l'eguaglianza è il nostro programma politico e la Costituzione repubblicana la luce che illumina e colora il nostro cammino collettivo.